Il vero lavoro dell'imprenditore è gestire il valore aggiunto dato dai collaboratori che ha. Che cos'è essere imprenditori oggi? Secondo me, prima di tutto, è prendersi la responsabilità di un mondo, di un ecosistema che ruota attorno a te. La cosa di cui dobbiamo renderci conto è che siamo un attore sociale. Tutti i giorni ti alzi e devi fare del tuo meglio perché anche quel giorno sia stato importante nella vita di tuo figlio, della tua azienda. Grazie a tutti.